Pensione di cittadinanza. Cosa c'è da sapere? Puoi presentare la domanda negli uffici postali, ai CAF o sul sito. Il beneficio economico varierà in base a diversi parametri. Ad esempio, se sei in affitto, la tua pensione minima o di invalidità può aumentare fino a 780 euro al mese. Se invece siete una coppia in affitto, la pensione può aumentare fino a 1032 euro al mese. Per tutti i requisiti, vai sul sito. Pensione di cittadinanza. Una rivoluzione per la vita delle persone. Pensione di cittadinanza.